Grazie e benvenuti in un nuovo video, io sono Tramiglia Ria e oggi ragazzi dobbiamo fare le 40 corone come vedete ne ho 37 e dobbiamo arrivare a 40 iniziamo ragazzi allora tra la banana e la volfe scegliamo scelgo la volfe allora ragazzi nel primo round oggi mi è uscita la varage ma come è possibile che mi esce la varage al primo round non mi è uscito ragazzi allora arrivo sempre prima, non so perché allora ragazzi facciamo così ok allora ragazzi vi sietevi al canale attiva della campanella oh e ragazzi sotto lì che lo volevo fare e dai ve l'ho fatta tutto che faccio di giocare con una mano io ragazzi oh oh così no no arriviamo tutti in una volta oh mio dio ce l'abbiamo fatta ragazzi 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 vi piace eh in meia shorts se vi piace lasciate like perché ragazzi io sono un hacker hackerato infatti infatti vorrei che liberate a me lo ha hackerato infatti che cosa sono queste e siccome voleva liberate a me le hack si è scaricata anche lui ma non queste che porti un'altra tipo quelle di passi che non funzionano ti consiglio di scaricare in gita e bike la mod liberate oh 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 ma raga raga che cosa che cosa che cosa raga che cosa mi so salvato oh raga mi so salvato proprio al massimo ragazzi non stavo facendo niente mi so salvato oh mio dio block dash block dash block dash block dash block dash nooo la search tracer raga oh noio perché non scrivete quale rick oh già uno è morto oh pa ho vinto ho vinto davvero sì ragazzi una corona una corona in più no no non devo fare mamma mia raga allora faccio un'altra partita sempre con la volpe ragazzi posso diventare gigante se volete ma poi ve lo farò vedere su block dash infinito ragazzi scusate per la live che ho sbagliato dovevo scaricare il finale hack ragazzi posso fare una certa oh ahia 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 oh è saltato uno ahia e lasciatemi allora allora raga mamma io volevo rifarlo dog dick mamma mia allora credono non sono abituato a farlo qua ma lo stesso lo faccio raga la raga mi raga chiediamo sta Alexa se no se la nomino parla e fa scoppiare la casa mamma mia raga si 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 miracolo raga un miracolo sta mappa l'amo oh ah no non volevo fare trick ok 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 maio veloce veloce facciamo oh mamma mamma si no ma come ma come ora ora devo fare veloce raga se no raga io ho fatto il record di 7 vittorie di fila anzi anzi non raga 11 mi pare che erano quelle che ho fatte io e il record mondiale mi pare di 20 se riuscite a battere il record iscrivetevi al canale mamma ma perché cado ma perché stumble guys mi fa il favore di non cadere mamma mia raga raga mamma mamma no non faccio il trick raga non faccio il trick se no muoio guarda il trick mamma mia cavolo ma what the fuck non la migliore del mondo si 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 la nonna migliore del mondo solo se gli compra una una piccola chitarrina bene bene raga no raga no aspettate raga che ho fatto una cosa sbagliata moriamo perché ragazzi ho fatto ora aspettiamo 30 ore oh oh mio dio raga wow wow oh oh che esce spingo round bello allora mi fanno mi bloccate mi bloccate o faccio le gire a volte come un po' mamma 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 mia oh 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 wow vabbè ragazzi che ce l'abbiamo fatta ragazzi io ho dei pugni per i calci dai che ce l'abbiamo fatta io lo cambio tutti i permi sono perchè devono tutti i permi? tutti i permi sono oh qua non siamo permi raga u u oh mio dio in dieci ma in che senso dai in dieci ci sono qualificati in dieci ma che cosa mi ragazzi volete vedere che all'ultimo round ci qualifichiamo tipo vabbè in otto e rimaniamo in due ragazzi sarà una cosa bellissima allora ragazzi vedo è uscito uno è uscito mamma mia wow 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 oh wow 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 oh wow 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 oh noi wow wow auto con indio la donna foto non ha fatto 1 wow wow manca solo questo si allora sto parlando a bassa voce scusa ok finalmente uno dopo tutti gli anni ce l'ha fatta uno sta fermo quello non si qualifica si che si qualifica mamma si ma in 6 ci siamo qualificati in 6 6 rimanenti ma what non ho capito niente no non ho capito un cavolo non è un'altra oh potto becce sarà facilissimo no ma cosa ma cosa ma ma a mamma ma a mamma a mamma a mamma si si raga si 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 il signore ha vinto raga il signore ha vinto il pro player ha vinto ragazzi manca una corona e ce l'abbiamo fatta ce lo possiamo fare raga 39 siamo ok 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 oh questa normale poi io voglio un trick se faccio così qua questo va a me tutta la mappa oh la faccio tutta qua la mappa guarda qua facilissimo senza fare ostacoli e altre cose bla 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 me la sono fatta tranquillamente ho fatto pure il trick mi sono buttato pure sotto pure ah sì questo video è pieno di trick e salvataggi sto video è bellissimo oh mio dio basta 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 ma io mi muovete tre anni per qualificarsi mamma mia mamma i nervi stanno vai dai mamma mia io sono la sotto raga sono qua sotto non so come farmi vedere ragazzi sono qua sotto tre anni per cui non so come farmi vedere ragazzi sono qua sotto raga ma si con 10 minuti di registrazione e oh mio dio dai muoviamoci 13 si ma sto gioco si bugga io mi uccido mamma mia mi uccido sto gioco si bugga molto mh 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 raga raga non ho i pugni quindi non posso farlo infatti come vedete io non ho i pugni mh 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 per mh fai ma mh a cent~!! by tus ma come oh ti prendo ti prendo ti prendo ti prendo si 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 raga 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 muoniamoci raga muoniamoci vai 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 l'ultimo salto l'ultimo suu raga ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta 40 le corone oh finalmente raga festeggiamo festeggiamo wow bellissimo finalmente le 40 corone e le 6900 coppe ragazzi quindi siccome siamo arrivati alle 40 corone e un sondaggio creeper adam creeper adam o da miglia ria 14 mamma mia volevo dire da miglia ria e 14 vgf o creeper adam ragazzi rispondete rispondete ve lo farò nei post nella community uniti